Non ti sposi anche tu qua, che ti sposi con le grillande, le cose, io ti compongo il balzer Ma perché non ti sposi tu? E tu componi il balzer? Ma aspetta, chi hai detto che ti sposavo? Ma poi mi sposavo, a questo punto qua era la battuta, poi mi sposavo Hanno capito una cosa? Che questo è un balzer musica, e quindi è roba da cantina Carnale? Ma non è Strauss Ma ce l'ha pure detto di? A noi Strauss, non ci piace Ma ce l'ha pure detto di? Ma questo non è politicamente corretto La rivoluzione bolshevica Non è questo, questo non è praticamente, no, non questo Questo è politicamente corretto Il fatto che sta parlando, ho capito, di queste comose degli attori Tu parla di chi ha parlato, di quale rivoluzione? L'evoluzione bolshevica Lui è bravo a queste cose, sta a tutto